E anche a casa per rotta è arrivato il 2023, tutta la famiglia è riunita a Salerno e nonno Mario ha cucinato per tutti. Tutti a tavola a mangiare e lui a fare danni sotto l'albero, Aki, Aki, la smetti di fare danni sotto l'albero, la smetti. Amore vuol dire al tuo fratellino che la smette di fare danni, Kiko Aki? Ragazzi, questo è un video che io e tutta la mia famiglia, i miei bimbi, compreso Aki, tutti quanti noi vi dedichiamo. Auguri, buon anno! Auguri! Auguri! Buon anno! 10-20-22, teniamo quattro. Ecco il rimuso per rievno, sento i micchi persone a casa, anche a frotte con le bículine, sentovi per giorni, 20-19-11, domande, 11-11, l��io, 12-12, 13-12, 13-12, 13-12, 13-12,cción, 10-12, 14-12, 14-15-15-15-15-15-16. Auguri, auguri, auguri a tutti, buon anno, buon anno, buon anno, auguri, auguri al pubblico di Canale Civa che ci sta seguendo in questo momento, auguri davvero a tutti che possa essere un anno splendido qui, corriandoli nella nostra piazza dei Ferrari. Stiamo, abbiamo scappato, stiamo gringando. Buon anno a tutti voi e Aki e Ethan sono sempre i miei amici. E i più belli, i piccoli di casa.